Buona serata. Allora, prima scontrino e poi imprese. Ma direi che per il discorso dello scontrino... Fa sorridere perché l'immagine del signore che... Abbiamo un sistema fiscale, cita da prima giustamente il consigliere Pentenero, 200 miliardi, 250 circa, no? Di cui, grosso modo, metà di evasione fiscale e metà di evasione contributiva. L'evasione fiscale, a sua volta, possiamo dividerla in mancata emissione di scontrino di fatture e falsificazione dei bilanci. Quindi sostanzialmente... Al 50%? Più o meno. Quindi 50% fatta da piccole aziende, da... Comercianti. Comercianti, dentisti, avvocati, l'altro 50% da grandissime aziende. No, da chi fa un bilancio. Invece, per quanto riguarda la parte contributiva, ovviamente, bisogna andare a vedere anche i vari settori. Fa specie che, per esempio, in Italia, che è un paese turistico, per il 52% l'evasione contributiva sia nel turismo, nell'agricoltura per il 30%, sono nell'industria del 12%. Quindi dove effettivamente si va a fare dei controlli, insomma, io da un bagnino non sono mai riuscito a farmi dare una ricevuta. Quando vado al bar, la prima cosa di sto scontrino è buttarlo da qualche parte, perché sostanzialmente va benissimo aumentare i controlli. La signora prima diceva prendiamo altra guardia di finanza, certo, però l'obiettivo a cui noi dobbiamo tendere, e questa manovra non tiene conto di questo, è che noi dobbiamo arrivare a un sistema fiscale di detraibilità. Se non quasi totale, ma quasi. Certo, perché è quando conviene al cittadino di essere tuttora dei propri interessi andare a controllare gli altri. Non se ne esce se non andiamo verso una ipotesi di questo tipo, che poi quella anglosassola ne più ne meno. Abbiamo un problema di cassa, perché se noi facessimo un'operazione di questo tipo, siamo fuori di 250-300 miliardi per sei mesi, perché prima che l'emerso mi tiri fuori quello che io nel frattempo ho dovuto detrare le detraibilità degli altri. Ma in buona sostanza, voglio dire, fatto quello entreremo in un sistema virtuale che con la moneta ormai non più cartacea, insomma adesso hanno abbassato a mille euro e si potrebbe anche arrivare a zero in teoria, voglio dire non dovrebbe più scappare niente, dovremmo arrivare a zero. Però dobbiamo essere autotutelatori del bilancio pubblico. Per dare un esempio semplice, si tratterebbe dello stesso sistema utilizzato per edilizia. Sostanzialmente. Dove abbiamo una detrazione importante. Noi dovremmo avere praticamente tutto detraibile a parte alcune eccezioni, non come oggi in cui è quasi niente detraibile se non alcune piccole eccezioni, il mutuo fino a un tot, la polizza vita fino a un tot, eccetera. In quel modo lì riusciremo veramente a cambiare questa situazione. I dati vorrebbero dire portare a casa, certamente far riemergere i 20, 30, 40, 50 in due o tre anni, ma non solo, perché se noi andiamo a calcolare un'imposizione del 20%, su questi 200 fanno 40 miliardi ogni anno e saremmo praticamente a posto. Quindi questo discorso direi assolutamente... Anche l'artigiano non ha nessuna difficoltà ad emettere la fattura nel momento in cui il privato cittadino gli chiede. C'è un incrocio. E allora anche lì l'IVA al 25%, perché comunque in Germania stanno tirando l'IVA molto alta, in Svezia siamo al 26%, c'è questa tendenza in effetti di andare a colpire di più i consumi, effettivamente, va anche a colpire le importazioni cinesi, per esempio, che sono competitive in maniera sleale. Effettivamente noi importiamo molta roba cinese, andando a colpire lì non è male, perché mettiamo in facoltà le nostre imprese di competere meglio. Però dobbiamo poterle incrociare noi queste IVA anche al 25-26%. Bene.